E torniamo insieme in studio per parlare di un tema sempre d'attualità e sul quale conviene tornare proprio perché c'è tanta informazione da dover condividere con voi amici telespettatori. Lo facciamo grazie ad una realtà che ritroviamo nell'ambito della nostra programmazione. Si tratta di medicina e persona della quale abbiamo in collegamento il Presidente, nonché medico internista, medico clinico, che quest'oggi ci dà la possibilità appunto di tornare su questi argomenti. Si tratta del Dottor Giorgio Bordin, che io saluto e ringrazio per la disponibilità. Buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno. Abbiamo la possibilità, dicevamo, di tornare sul fine vita, ma parliamo di medicina e persona, di cosa si tratta, di cosa si occupa questa realtà inserita nel contesto sanitario? Medicina e persona nasce già nel 1999 con l'idea di sostenere il valore e il significato della professione prevalentemente sanitaria, raccogliendo ovviamente operatori sanitari, medici e infermieri, ma anche coloro amministrativi, manager della sanità, che in qualche modo e a diverso titolo operano per prendersi cura del bisogno di salute delle persone. L'idea di medicina e persona è proprio questa, la persona al di là del malato è proprio la persona di chi lavora in sanità, il professionista e noi riteniamo che ci sia bisogno di un'amicizia, di una compagnia e di un aiuto fatto anche di approfondimento culturale, ma nel senso più ampio del termine, per poter reggere quello che è un lavoro affascinante, però sicuramente duro, messo alla prova dalle circostanze della vita individuale, ma anche dalle circostanze storiche, come anche questo momento dimostra. E tra queste attività sicuramente una parte rilevante a quella relativa alla difesa della vita, sin dal suo concepimento, ma anche e soprattutto nel contesto che andremo a trattare quest'oggi sul fine vita, fine vita che vede sempre tante polemiche, ma tanta necessità ecco di informazione. Ecco, relativamente a questo, quali sono le vostre posizioni in merito appunto al fine vita? Penso che lei abbia toccato molto correttamente anche questa necessità di informazione e più in generale quindi di conoscenza. Purtroppo la conoscenza non la si fa solo con l'informazione, ma l'informazione è decisamente indispensabile. E anche su questo, tra l'altro, noi cerchiamo di lavorare dando i nostri contributi non tanto in ambito strettamente bioetico, noi non siamo un'associazione bioetica, ma aiutandoci a tenere il passo e lo sguardo anche su quello che sta accadendo, perché molto spesso proprio la disinformazione e la non conoscenza mettono le persone in una posizione non adeguata a poter giudicare correttamente quello che avviene. Sia negli ambiti dell'inizio della vita che negli ambiti del fine vita si rendono più urgenti, più evidenti, più drammatiche molto spesso, fino ad arrivare all'angoscia del dolore, della sofferenza, come i temi del fine vita ci stanno ricordando, quelle che sono le domande in realtà sul fine della vita, cioè sul suo senso, che dovrebbero essere domande che vive in ogni momento della vita anche quando si sta bene, purtroppo noi spesso ce le dimentichiamo e alcune circostanze ce le riportano in faccia e ce le fanno diventare così evidenti, così importanti. Per questo noi abbiamo sempre ritenuto che parlare anche del fine vita vuol dire in realtà parlare della vita, parlare del bene, della possibilità di bene e di compimento che la vita è, indipendentemente e al di là anche delle circostanze più avverse. Questo è il motivo per il quale interrompere una vita, non solo un bene indisponibile come recita del Magistero della Chiesa, ma togliere questa possibilità di poter essere aiutati fino in fondo a viverne il buono che non può essere tolto da nessuna condizione è per noi indispensabile. Ogni altra soluzione frettolosa non è neanche tipica della medicina, perché la medicina nasce per cercare di guarire e si rende conto, si è sempre resa conto che anche quando non può guarire, anche quando c'è il fallimento scientifico, biologico della possibilità terapeutica della medicina, la medicina non scappa, sta e rimane a fianco della persona malata. Anzi, la medicina storicamente è nata, quello che noi nella parola medicina possiamo intendere come più ampia realtà sanitaria di gente che si prende cura degli uomini malati, è nata proprio come assistenza, è nata storicamente da persone che, vivendo la loro identità cristiana, come documentato nei primi secoli del cristianesimo, si prendevano cura dei malati anche se non avevano in mano reali possibilità di guarigione, proprio perché la cosa importante era far compagnia nella compassione e nella commozione, cioè nella possibilità di vivere lo stesso bisogno che il malato denuncia nella sua malattia, nel suo bisogno di salute, che insieme ai bisogni di salvezza, poterli vivere dentro l'assistenza e dentro una compagnia si spera il più possibile efficace e quindi attrezzata delle armi che la scienza ci ha messo in mano per poter in molte situazioni anche guarire. In realtà anche la guarigione biologica non è sufficiente spesso e l'uomo ha bisogno di essere preso sul serio nella propria condizione intera. Ecco dottore, noi abbiamo parlato di questo tema in maniera, come dire, generale. Sappiamo che sono tante le materie che possono essere chiamate in causa, oltre a quella relativa a un discorso religioso, quindi di fede c'è ed è fondamentale l'aspetto scientifico, l'aspetto giuridico. Ecco, sul fine vita quali possono essere le vostre considerazioni sotto l'aspetto giuridico? Ecco, sono sempre attuali le notizie relative ad una legge che dovrà regolamentare questa realtà. Ecco, a questo proposito cosa ci dice? La sentenza della Corte di Cassazione, più o meno nota a molti, si è espressa dichiarando l'illegittimità di un articolo della Costituzione nel punto in cui considera punibile l'aiuto al suicidio e indicando che questa punibilità può essere escluse in alcune situazioni che la sentenza ricorda, che sono quelle di un dolore, di una sofferenza intollerabile in persone che sono tenute in vita da trattamenti straordinari e particolarmente gravosi. La stessa sentenza della Corte di Cassazione indica la necessità che venga colmato un vuoto legislativo e questo ha dato il via ad un'azione che noi siamo certi terminerà certamente in una legge, indipendentemente dal fatto che noi la possiamo ritenere necessaria o utile. Sicuramente in questi anni il Covid da una parte e una serie di altre circostanze dall'altra hanno ritardato l'attuarsi di questo disegno, di questa discussione parlamentare che in questi giorni per esempio sta ritornando con forza e in realtà non si è mai perduta del tutto essendoci già un disegno di legge presentato alla Camera che non è ancora approvato dal Parlamento. Noi siamo sicuramente molto preoccupati di questa legge per molti aspetti, intanto per quest'idea anche del suicidio medicalmente assistito, per cui in molti paesi ci sono legislazioni sul suicidio assistito, ma non è necessariamente assistito da un medico, non necessariamente deve essere tutelato dal Servizio Sanitario Nazionale come la sentenza della Corte di Cassazione richiede. E poi ci sono naturalmente tutte le salvaguardie che non sappiamo essere salvaguardie molto deboli e molto mobili perché nel concetto di intollerabilità delle condizioni sta facilmente questo criterio del piano inclinato per il quale uno può introdurre all'inizio condizioni di salvaguardia, ma che molto facilmente possono scivolare ed essere appunto ridotte ad una soggettività di intolleranza che lascia poi via libera e aperta a posizioni molto più ampie e molto meno, come dire, normate e garantite. Questo non lo si dice per un timore di qualche cosa che potrebbe succedere, ma lo si dice semplicemente andando a guardare che cos'è successo negli altri stati che storicamente lo documentano e lo documentano in modo incontrovertibile in tutte le storie dei paesi nei quali è stato introdotto già da... Ecco dottore, lei dice che una situazione del genere potrebbe aprire le porte dell'eutanasia anche per questioni molto meno importanti, come quella della sopportazione di un dolore enorme, magari anche solo situazioni psicologiche che vengono affrontate in maniera sbagliata, potrebbero portare a pensare ad un fine vita anticipato? Questo è quello che esattamente è evidente nelle storie di altri paesi, ma addirittura in Olanda, pochi anni fa, è stata approvata anche la possibilità che per richiedere l'eutanasia sia sufficiente un limite d'età, che adesso chiedo scusa ma non ricordo se siano 70-75 anni, è questa dichiarazione di vita completata, quindi neanche in realtà una sofferenza, ma solo una percezione di... Di stanchezza della vita? Di stanchezza di sé, sì. Il solo fatto di dire io ho fatto la mia vita, quindi oramai può finire qui. E comprendiamo benissimo qual è la delicatezza di un argomento che richiama altri temi, tra i quali quello delle cure palliative, ma che purtroppo non riusciamo a completare quest'oggi. Intanto io ringrazio di cuore il dottor Giorgio Bordin, medico clinico internista e presidente dell'Associazione Medicina e Persona, che quest'oggi ci ha dato la possibilità di tornare su questo argomento, ma con la promessa di svilupparlo ulteriormente, prossimamente, proprio perché riteniamo questo un argomento sul quale continuare a tenere alta l'attenzione e il giusto livello di informazione. Grazie dottore, buon lavoro. Vi saluto, arrivederci.